Un impegno di spese importante, quello messo in campo dalla provincia di Avellino, in vista del Giro d'Italia. La macchina organizzativa è già partita ed è decisamente in moto per ridurre al minimo i rischi intorno al maxi-evento in rosa targato RCS. Centrale sarà il rinnovamento delle strade in cui passerà la carovana rosa. Il 90% della spesa, oltre un milione di euro, sarà sborsata proprio dall'ente di Palazzo Carazzolo, i restanti 10 dall'ANAS. Sì, un ruolo da protagonista era quello che avevamo chiesto a RCS, quindi non soltanto una tappa, un passaggio, una tappa di arrivo e di partenza, ma una presenza nei due giorni su buona parte del territorio provinciale. Saranno diversi i comuni coinvolti, siamo alle battute finali, la firma del contratto è oramai pronta. Abbiamo costituito un comitato di accoglienza con i due sindaci del comune di Bagnoli Irpino e di Atripalda. Abbiamo iniziato già i sopralluoghi, alcune arterie erano già oggetto di intervento, ovviamente andremo a focalizzare ancora di più l'attenzione proprio su quei tratti di strada dove passerà il Giro d'Italia. Un'occasione certamente da non sprecare in cui giocoforza dovranno essere protagonisti anche i privati. Sta per uscire una manifestazione di interesse per coinvolgere i privati, perché l'obiettivo è cogliere questa straordinaria opportunità e quindi una vera vetrina per tutto il territorio provinciale. Sì, sono molti soggetti interessati che vorranno partecipare a ogni iniziativa che si svolgerà sul territorio, partendo dai consorsi, dalle associazioni, ma anche dalle aziende. Stiamo valutando come mettere in mostra al meglio il nostro territorio.